diritto societario casi pratici in materia di abuso della maggioranza ai danni del socio di minoranza prima parte cos'è l'abuso della maggioranza quali sono i casi tipici in cui si concretizza in questa mini serie di video esemplificheremo i tre casi principali in cui si configura più frequentemente questo fenomeno al fine di renderli più agevolmente riconoscibili ai soci di minoranza che ritengano di essere stati pregiudicati dallo strapotere della maggioranza societaria valuteremo anche quali rimedi possano essere adottati per far fronte ai comportamenti abusivi dei soci che hanno il controllo della società nell'ambito del diritto societario l'abuso della maggioranza consiste in una lesione dei diritti del socio di minoranza in violazione del canone di correttezza e buona fede il quale impone il perseguimento dell'interesse comune della società l'abuso della maggioranza si concretizza tutte le volte in cui viene realizzata un'attività tipicamente una delibera assembleare che sebbene formalmente rispettosa della disciplina normativa non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società poiché il voto della maggioranza è ispirato al conseguimento di un interesse personale dei soci di maggioranza antitetico rispetto a quello sociale oppure è il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza gli ambiti principali in cui si manifesta il fenomeno dell'abuso della maggioranza sono sostanzialmente tre le delibere in materia di aumento del capitale le delibere in materia di distribuzione degli utili le delibere in materia di compenso degli amministratori in questo video ci soffermeremo sulle delibere in materia di aumento di capitale in un precedente video di cui vi lasciamo il link in descrizione abbiamo già spiegato che la maggioranza può commettere un abuso ai danni del socio di minoranza attraverso una delibera di aumento di capitale sociale la legge prevede che la delibera di aumento del capitale debba essere approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale ciò significa che salvo che lo statuto non preveda una percentuale più elevata il socio di maggioranza può sostanzialmente deliberare in autonomia e nonostante il dissenso del socio di minoranza l'aumento di capitale se il socio di maggioranza che ha deliberato a favore dell'aumento è anche l'unico che può permettersi di sottoscriverlo la conseguenza è che la partecipazione del socio di minoranza ne risulterà diluita ossia ridotta proporzionalmente se l'aumento è stato disposto con il voto favorevole del socio di maggioranza al solo fine di diluire la partecipazione del socio di minoranza sgradito fino a rendere il suo peso in società sostanzialmente inesistente o comunque al mero scopo di rafforzare ulteriormente la propria posizione di dominanza allora la delibera è annullabile in quanto imulativa poiché adottata in violazione del principio di buona fede di cui all'articolo 1375 del codice civile se invece la delibera di aumento pur risultando in concreto lesiva dell'interesse del socio di minoranza risponde a un interesse della società allora sarà legittima il socio di minoranza che ritiene di essere danneggiato dalla delibera di aumento di capitale potrà impugnarla davanti a un giudice invocandone l'annullabilità per abuso della maggioranza ai propri danni il giudice esaminerà la delibera nel merito ossia non si limiterà a valutarne la legalità formale ciò al fine di valutare se concretizzi effettivamente un abuso del socio di maggioranza ai danni del socio di minoranza o se invece pur risultando pregiudizievole per il socio di minoranza debba comunque considerarsi legittima poiché conforme a un interesse sociale dimostrare l'abusività di una delibera di aumento del capitale sociale non è affatto semplice in primo luogo perché l'onere della prova dell'abuso della maggioranza grava sul socio di minoranza che impugna la delibera in secondo luogo perché la recente giurisprudenza di merito tende a salvare la legittimità delle delibere di aumento a meno che le stesse non trovino proprio alcuna giustificazione nell'interesse della società ossia non si concretizzino in una deviazione dallo scopo economico pratico sancito nel contratto di società oppure siano addirittura il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza finalizzata a danneggiare i soci di minoranza e rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. Se invece l'aumento di capitale è giustificato dalle esigenze finanziarie della società l'abuso della maggioranza non sussiste ciò nemmeno a fronte del ridimensionamento della partecipazione del socio di minoranza. Infatti le esigenze economiche della società prevalgono sempre sugli interessi dei singoli soci. Ad esempio in una recente decisione il tribunale di Trento ha ritenuto che l'aumento fosse giustificato dall'esigenza di ricapitalizzazione della società che aveva subito una perdita consistente ciò anche se le riserve rimanenti erano ben superiori rispetto all'ammontare della perdita. In particolare l'interesse sociale perseguito dalla delibera sarebbe stato quello di mantenere inalterato l'indice di patrimonio netto della società ossia il rapporto fra il totale del patrimonio netto e le passività. In un'altra recente sentenza del tribunale di Napoli sebbene la società fosse titolare di strumenti finanziari a reddito fisso per 2 milioni di euro il giudice ha ritenuto l'aumento di capitale sebbene disposto con il dissenso del socio di minoranza funzionale a un interesse sociale perché a ben vedere i titoli erano vincolati a garanzia di un finanziamento concesso alla società da una banca e quindi non erano nell'immediata disponibilità della società. Infine anche una recente pronuncia del tribunale di Milano ha rigettato la domanda di annullamento della delibera di aumento del capitale per abuso della maggioranza ritenendo che l'aumento anzidetto fosse giustificato da un'esigenza di ricapitalizzazione della società perché la stessa aveva avuto negli ultimi quattro anni un andamento patrimoniale caratterizzato da perdite possedeva una rilevante esposizione bancaria. Nel prossimo video parleremo del secondo caso tipico di abuso della maggioranza le delibere in materia di distribuzione degli utili. Iscrivetevi al nostro canale YouTube abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto commerciale per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.